Buongiorno a tutti, sono Maria Silvia Vaccarezza, docente di uno dei moduli che compongono il corso di antropologia. Per quanto riguarda il mio modulo, il materiale didattico è costituito esclusivamente dalle slide, sebbene come vedrete troverete come ultima slide alcuni riferimenti bibliografici che non intendono essere materiale d'esame ma eventuali suggerimenti di lettura, approfondimento di quanto ci diremo. Questa lezione avrà una durata indicativa di due ore al termine delle quali vi verrà proposto una sorta di questionario di autovalutazione di 15 domande per verificare le conoscenze appena ricevute attraverso questa video lezione. Per qualunque chiarimento o richiesta di precisazione in merito ai contenuti della lezione ovviamente potete contattarmi, il mio indirizzo email lo trovate sia online sulla pagina del mio dipartimento che è il DAFIST, nella scuola di scienze umanistiche, sia nella prima slide che vedrete e che vi sto per mostrare. Ovviamente potete liberamente contattarmi per qualunque tipo di esigenza. Bene, il nostro modulo si compone di qualche blocco che analizzeremo ora insieme. Il titolo generale del modulo che ho scelto è Gli altri in noi, virtù e politiche del riconoscimento. Ho scelto questo titolo per declinare il tema specifico assegnato al modulo dalle direttive ministeriali, ovvero le implicazioni politiche del multiculturalismo e del pluralismo religioso, ovvero, ancora per essere più chiari, la dinamica dell'utilizzo di concetti obsoleti come razza e non obsoleti come appartenenza religiosa a livello di politiche e di sfera pubblica. Prima di entrare nel vivo del nostro modulo, tuttavia, mi piacerebbe approfondire un momento in cosa consista la peculiarità della riflessione filosofica sull'essere umano e sulla tematica dell'altro, in maniera tale da, se possibile, restituire a coloro di voi che non ne fossero a conoscenza in che cosa consista, almeno per sommi capi, l'antropologia filosofica. Come sapete, questo corso di antropologia prevede sia una parte di antropologia culturale, sia una di antropologia filosofica, che è quella a cura della sottoscritta e dei colleghi Manti e Pasini. Per sperare di fornirvi un utile orientamento a questa disciplina, introdurrò la lezione con alcune riflessioni ricavate da quelli che sono considerati padri dell'antropologia filosofica. Una precisazione iniziale che vorrei fare è che il problema della multiculturalità o della interculturalità non è un problema recente, che che se ne possa pensare. Non solo perché la filosofia è sempre stata interculturale, ma perché, come vedete nel Notabene, la stessa identità occidentale o quantomeno quella europea è sempre stata contraddistinta, fin dal suo sorgere, dall'idea di apertura all'alterità. Quando parliamo della nostra identità di europei, per esempio, non stiamo parlando di un monolite, di una costruzione che sia avvenuta in solitaria, ma di una costruzione plurale in cui l'apporto di varie alterità è stato decisivo a forgiare quel qualcosa che chiamiamo noi. Quindi, quando rifletteremo sul tema noi e gli altri, innanzitutto sarebbe bene tenere presente che questo tema è sì oggi più urgente che mai in forza dell'impatto della globalizzazione, della presenza di stranieri come non più ospiti di passaggio, ma membri stabili della comunità. E tuttavia è qualcosa che ci ha sempre contraddistinto, non solo come umani, ma in particolare come europei. Basti pensare a come l'origine della stessa identità europea sia di fatto la contaminazione nell'impero romano di tante culture differenti, non ultima, anzi decisiva quella greca, ma anche la pervasività della religione cristiana, una religione altra, straniera. E poi le invasioni barbariche, dove l'altro per eccellenza, il barbaro, colui che è sempre stato tacciato come barbaro, quindi l'altro to cure, diventa invece un membro stabile, non solo, addirittura un arbitro di che cosa sia il noi. E via discorrendo. Se pensate alla storia europea, trovate esempi continui di questa fecondazione che è avvenuta sul nostro territorio e che ha determinato quel ciò che noi siamo, dove possiamo riconoscere le tracce di tutte queste identità, non solo le tracce architettoniche e storiche, ma anche le tracce culturali. La nostra società si fonda su una eredità del diritto romano, la religione prevalente, quella cristiana, nata quindi in Medio Oriente duemila anni fa. Molte delle nostre istituzioni culturali tuttavia hanno avuto origini addirittura proprio dai regni romano-barbarici. Potrei andare avanti a lungo, ma non voglio soffermarmi troppo su questo, ma è una precisazione che credo importante anche per ricontestualizzare il tema della multiculturalità e delegittimarlo in parte della sua potenza esplosiva. La convivenza tra cristiani e musulmani nell'Europa medievale è stata una tematica continua di scontro, ma anche di incontro. Pertanto una delegittimazione che non vuole essere una negazione dell'importanza, dell'urgenza e dell'attualità di questo tema, ma certamente una sua ricontestualizzazione. Ora, ecco il piano, diciamo, della nostra lezione, ovvero innanzitutto una comprensione di alcune coordinate fondamentali dell'antropologia filosofica, pertanto un tentativo di comprendere cosa si intenda per io e cosa si intenda per altri, secondo alcune coordinate, come la presunta contrapposizione tra natura e cultura e tra relativismo e verità. Una seconda sezione affronteremo il rapporto tra culture in un senso filosofico, ovvero ci chiederemo se il relativismo sia l'unica opzione a nostra disposizione o se si possa aggiungere a una qualche forma di verità circa le istituzioni, ma anche le modalità con cui dovremmo interagire. In una terza sezione, che è quella più specificamente dedicata al nostro tema, affronteremo alcune posizioni filosofiche sul confronto tra culture e religioni sull'arena pubblica e anche in campo politico, dove vedremo la possibilità di tematizzare questo confronto come incontro, come scontro, come rapporto di scambio, oppure in termini anche di tolleranza, di rispetto e perfino di intersezione. Infine ho aggiunto, scusatemi, una breve sezione che vorrebbe provare a declinare il tema dell'incontro con l'altro in senso specificamente morale, cioè l'incontro con l'altro inteso come altro essere umano. Perdonatemi se uso uomo come parola interscambiabile a essere umano per semplici esigenze di brevità. Quindi l'incontro con l'altro essere umano in quanto tale, dove il livello politico, il livello istituzionale, si rivelano insufficienti a cogliere la specificità dell'incontro con persone reali, persone reali che fanno parte del tessuto della nostra vita quotidiana e pertanto dove ritengo, ma questo è il mio personale approccio, che il terreno delle coordinate secondo cui vorremmo impostare le relazioni multiculturali in senso politico deve cedere il passo a quelle che chiamerò le virtù dell'incontro con l'altro. Quindi disposizioni eminentemente individuali, sebbene relazionali, che solo il singolo può coltivare e promuovere per favorire uno scambio efficace con l'altro, quale che esso sia. Dunque, prima sezione, dicevo noi e gli altri alcuni termini fondamentali. L'antropologia filosofica, che è sostanzialmente, è una disciplina potremmo dire recente, anche se troviamo un'antropologia filosofica da Platone in avanti, ovvero una descrizione filosofica dell'umano o addirittura potremmo anche dire una metafisica dell'umano, impiegando un termine un po' spinoso, talora desueto o comunque criticabile. Ma è una disciplina che pur affondando le sue radici nella tradizione filosofica occidentale fin dal suo sorgere, si configura come tale, si chiama come tale, a partire da un gruppo di filosofi facenti capo in diversa misura, in diversa modalità, la fenomenologia, filosofi tedeschi, che si sono posti come veri e propri iniziatori di una riflessione peculiare di stampo fenomenologico sull'essere umano. Una delle prime caratteristiche che questa riflessione assegna all'essere umano è quella di essere un animale carente. L'essere umano è carente nel senso proprio in cui la sua natura biologica è contraddistinta da una mancanza. Tale mancanza è in realtà una forza perché è ciò che origina l'esigenza dell'essere umano di fare cultura. Ma vediamo meglio. Come questo passo di Galen, appunto uno dei padri dell'antropologia filosofica, ben spiega, dal punto di vista morfologico, a differenza di tutti i mammiferi superiori, l'uomo è determinato in linea fondamentale da una serie di carenze, le quali di volta in volta vanno definite nel preciso senso biologico di inadattamenti, non specializzazioni, primitivismi, cioè di carenze di sviluppo, e dunque in senso essenzialmente negativo. Manca in lui il rivestimento pilifero e pertanto la protezione naturale dall'entemperia. Egli è privo di organi difensivi naturali, ma anche di una struttura somatica atta alla fuga. Quanto ad acutezza di sensi, è superato dalla maggior parte degli animali e in una misura che è addirittura un pericolo per la sua vita, difetta di istinti autentici e durante la primissima infanzia ha necessità di protezione per un tempo incomparabilmente protratto. In altre parole, in condizioni naturali, originarie, trovandosi lui terricolo in mezzo ad animali valentissimi nella fuga e ai predatori più pericolosi, l'uomo sarebbe già da gran tempo eliminato dalla faccia della terra. La trasformazione della natura in cultura è un processo biologicamente necessario, perché un essere che per natura è così problematicamente dotato deve fare di una natura trasformata il punto di appoggio della sua propria, dubbia, capacità di vivere. Ora, pur trascurando una discussione circa l'accuratezza di questa descrizione della biologia umana, potremmo dire, che forse risente del suo essere in parte datata, tuttavia c'è una verità in questo passo, cioè che in quanto animale l'essere umano non avrebbe avuto chance di sopravvivenza, se non si fosse trasformato in un animale culturale, se non avesse sfruttato il suo unico vero vantaggio evolutivo, cioè la sua capacità cognitiva superiore, per fare cultura e così facendo trasformare la natura in maniera da renderla atta alla sua sopravvivenza. una dinamica fondamentale, perdonatemi per l'immagine, ma quando l'ho scelta era stato appena esonerato il CT della nazionale, una dinamica fondamentale è quella dell'esonero, cioè il meccanismo con il quale l'essere umano sopperisce alla sua carenza di istinti. L'esonero consiste per questi autori nell'acquisizione di abitudini, nella creazione di istituzioni che permettano all'essere umano appunto di esonerarsi dalla necessità di occuparsi di tutti i fattori che di volta in volta gli sarebbe richiesto di affrontare per sopravvivere. Pensate al ruolo fondamentale delle regole, della divisione del lavoro, delle istituzioni, tutti istituti culturali che ci esonerano dal doverci preoccupare e occupare di tutto ciò che è necessario alla nostra sopravvivenza. In questo momento nessuno di noi si sta occupando di erogare la propria energia elettrica, di svolgere mansioni fondamentali, di occuparsi di tutte le necessità legate all'approvvigionamento, ci siamo esonerati dallo svolgere tutte le attività suddividendo i nostri compiti e creando istituzioni che regolino questa suddivisione. Così facendo la ripartizione dei compiti così sofisticata e così dettagliata ci mette in grado di poterci occupare di una porzione di realtà, cosa che siamo in grado di fare, che le nostre energie ci consentono di fare contando sulla cooperazione per svolgere tutte le altre. Ma una caratteristica fondamentale dell'umanità in quanto tale è il non essere vincolata a un ambiente particolare, quindi la capacità di decentramento. L'essere umano non è legato in maniera definitiva a un tipo particolare di ambiente. Per l'essere umano non vale l'idea di habitat. L'essere umano è libero in un certo senso dall'ambiente, è capace proprio attraverso il suo fare cultura di adattarsi ad ambienti più disparati, non illimitatamente, è ovvio però certamente in maniera significativamente libera. Pertanto questo determina, secondo questi autori e la loro ricostruzione, una fondamentale apertura al mondo. Quindi una capacità che è sostanzialmente biologica, quella di sopravvivere in ambienti disparati, attraverso appunto la creazione di istituzioni culturali, come il vestire, il rifugio, la protezione, fa sì che questa caratteristica diventi anche una caratteristica dello sguardo umano sul mondo, cioè quello di un'apertura. In particolare questa apertura è un decentramento che l'essere umano può esercitare anche su se stesso, ovvero l'essere liberi dall'ambiente in realtà si traduce anche come una libertà da se stessi, dal proprio io. Questa facoltà, questa capacità è anche denominata l'eccentricità dell'umano, cioè il decentramento rispetto a se stesso e ai suoi bisogni. L'essere umano può distanziarsi dai suoi stessi bisogni e desideri, in qualche modo oggettivarli, in qualche modo quindi renderli oggetto di riflessione, di messa in discussione, non siamo spinti dall'istinto a compiere necessariamente determinati atti, possiamo decentrarci dai nostri istinti e desideri, in qualche modo soppesarli, sebbene non in maniera totale o illimitata e al tempo stesso facendo di noi stessi un oggetto di riflessione possiamo farne anche un oggetto di comunicazione. Pertanto, come si diceva, decentrandosi e distaccandosi dal mondo, l'essere umano non vive mai in un rapporto di immediatezza con la realtà, ma sempre nella dimensione, come vedete, della mediazione. Che vuol dire mediazione? Non vuol dire l'artificialità in un senso deteriore, significa semplicemente che il nostro rapporto con il reale è sempre filtrato, anzitutto dalla nostra riflessione, dalla nostra possibilità di distanziarci da qualunque dato immediato. Secondariamente è sempre mediato culturalmente, non c'è una sola pratica umana che sia totalmente immediata, nemmeno le più primarie, se ci pensate. Perfino i bisogni più fondamentali e basilari, come quello di nutrirsi o l'esigenza di riprodursi, sono culturalmente estremamente mediati. Anzi, mi verrebbe da dire, più fondamentali sono, più mediazione subiscono. Pensate a come appunto questi gesti primari, che dovrebbero essere i più spontanei o quantomeno i più immediati, siano in realtà tra quelli rivestiti di maggiore significato simbolico. L'atto riproduttivo non è un atto riproduttivo immediato, è un momento di incontro altamente simbolico, quale che ne sia la natura, anche fosse quella di un incontro violento. La simbolicità di questa violenza sarebbe fortissima. Allo stesso modo, l'atto del cibarsi è enormemente ritualizzato, istituzionalizzato e de-immediatizzato, potremmo dire. Quindi immediato da una serie di regole, di prescrizioni, ma anche di simboli adesso associati. Nota bene che non si può non fare è la riflessione su quante religioni assegnino al lato del mangiare un'importanza centrale, o a prescrizioni legate al cibo, come nel caso della religione islamica o di quella ebraica, o addirittura abbiano nell'atto del cibarsi il loro momento fondativo e fondamentale. Il caso del cristianesimo è eclatante, il cristianesimo consiste nel cibarsi del divino, se volessimo dire la sua essenza più centrale, più profonda. Da queste riflessioni possiamo ricavare tre leggi antropologiche che sono state formulate da Helmut Plesner, un altro appunto dei grandi padri dell'antropologia filosofica, ovvero la legge dell'artificialità naturale, secondo la quale l'essere umano non vive nell'ambiente immediato, ma, ed è quello che si diceva ora ora, deve prendere la strada più lunga delle cose artificiali. Il che, ancora una volta, sottolineo, non significa l'artificialità in quanto dominio della tecnica sul mondo o la perdita dell'autenticità, ma l'artificialità nel senso del mondo simbolico della cultura, quindi un'artificialità in senso estremamente ampio. La seconda legge è quella dell'immediatezza mediata. Appunto, naturalmente, noi non possiamo fare a meno dell'immediatezza, non possiamo non confrontarci col dato che la realtà ci pone, e tuttavia, costantemente, questo dato viene da noi mediato per divenire il nostro mondo umano. Si può parlare di mondo nel momento in cui c'è questa mediazione. Il nostro mondo è il mondo costituito dalla nostra costituzione simbolica della realtà, dalla nostra sistemazione simbolica del dato immediato. Si può parlare di un mondo solo nel caso di questo orizzonte simbolico nel quale l'umano trasfigura il dato immediato, lo media e lo rende suo. La terza legge, quella del luogo utopico, è, diciamo, la riflessione sul fatto che, proprio per questo distanziamento dall'immediatezza, l'essere umano è in grado di assumere la posizione vertiginosa di sperimentare, appunto, questo mondo che lui stesso ha in parte costituito, ma anche se stesso come sostanzialmente inadeguati, come fondamentalmente nulli nel senso di destinati a perire, ma nel senso anche di radicalmente instabili, insufficienti a fondarlo, a rappresentare un fondamento solido, un fondamento, cioè, assoluto. A questo fondamento assoluto l'essere umano non può che dare il nome Dio nel momento in cui faccia questa riflessione, che non significa che l'essere umano sia necessariamente vincolato all'adesione, ovviamente, a una qualche concezione del divino, ma che l'essere umano, secondo questa lettura, si configura sempre come homo religiosus, cioè come cercatore del fondamento. Questo, badate bene, non è esclusivamente un assunto religioso, è l'assunto per il quale, se ci pensate, è nata la filosofia occidentale, come, se qualcuno di voi ricorda i filosofi pressocratici, la ricerca dell'archè, il principio, quel principio fondamentale che potesse garantire stabilità al mondo, spiegare, in un certo senso, il divenire del mondo, spiegare l'inspiegato, cioè la precarietà e la contingenza del mondo, quindi la ricerca del necessario come fondamento del contingente, potremmo dire. Ecco, in questo senso si può capire come si tratti di un'esigenza fondamentale umana e non necessariamente di un'adesione a una peculiare confessione religiosa. Ecco, questa apertura intenzionale, così si dice, alla totalità dell'essere, questa apertura resa possibile dal decentramento dell'umano e dal linguaggio con cui si può comunicare ed esprimere questa capacità riflessiva, è il fondamento dell'autocoscienza. L'autocoscienza, su cui si potrebbe dire moltissimo, ma naturalmente per ragioni di tempo non posso dire granché, mi preme sottolineare come sia non soltanto una dimensione fondamentale, ma anche l'origine di un peculiare sentimento di sé, come questi autori hanno fatto notare. Il sentimento, cioè, di essere più del proprio corpo, di essere più del qui e ora, in un certo senso di chiamare io qualcosa che non è interamente catturabile dalla mia presenza qui e ora, che può espandersi immaginativamente oltre sé, che può percepire l'insufficienza del qui e ora, che può cercare ciò che qui e ora non è, che può quindi in un certo senso liberarsi, ma anche espandersi al ciò che qui e ora non è. Vi sono, ve li lascio guardare autonomamente, alcuni sentimenti che sono stati chiamati sentimenti di trascendenza, non nel senso del trascendente, ma nel senso del trascendimento del sé, della percezione di poter in qualche modo non identificarsi interamente con il sé qui e ora, come pudore, timidezza, ironia, ma soprattutto mi piace notare il sentimento della noia, non intesa come lo sbadiglio di disinteresse nei confronti della realtà presente, o meglio, anche in questo senso basilare, appunto la insoddisfazione rispetto alla realtà presente, ma più in profondità e più in altezza, il fatto di non poter trovare un oggetto adeguato alla soddisfazione del proprio desiderio. Questo passo dello Zibaldone a mio avviso ben illustra che cosa si può intendere per noia in questo senso, potremmo dire radicale, una noia radicale, che è in fondo la radicalizzazione o anche l'esasperazione o il portare fino in fondo la noia dello sbadiglio. Leopardi afferma, la noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani, in non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né per dir così dalla terra intera, considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio. Immaginarsi il numero dei mondi infinito e l'universo infinito e sentire che l'animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che si fatto universo e sempre accusare le cose di insufficienza e nullità e patire mancamento e vuoto e però noia pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vega nella natura umana. Perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento e pochissimo o nulla agli altri animali. Il sentimento quindi dell'insufficienza della realtà colmare al desiderio sarebbe in questa visione non una patologia dell'umano ma un vertice dell'umano, un vertice che gli uomini di nessun momento non conoscono, nel senso che gli uomini di nessun momento lasciano appagare il desiderio da piccole cose sopprimendo questa radicale insoddisfazione per la nullità delle cose nel loro complesso o perlomeno l'insufficienza delle cose nel loro complesso. Questo passo può farci molto discutere, può farci pensare a un pessimismo fin troppo radicale oppure può aiutarci a cogliere una dimensione che certamente riconosciamo come fondamentale in noi, cioè la perenne residuale insoddisfazione di fronte a ogni oggetto che si prometta di soddisfare il desiderio. Ora quindi, come abbiamo visto, l'umano è quell'essere che proprio in forza della sua peculiare natura paradossalmente è in grado di limitarsi dalla natura stessa e dai suoi condizionamenti creando così la cultura. Ma cosa significa creare cultura? Significa risignificare il naturale, l'istintivo e lo spontaneo. Risignificare a sua volta significa attribuire carica simbolica. Di fatto non è che l'umano non si cibi a differenza degli altri animali, semplicemente questo bisogno naturale lo investe e riveste di carica simbolica, ovvero quel gesto significa qualcosa per lui, non ha soltanto una necessità di venire esercitato, ma ha un significato. Che rapporto abbiamo con la nostra cultura? Beh, un modo efficace di esprimerlo è servendosi dell'analogia con la distinzione elaborata dal grandissimo linguista strutturalista francese de Saussure tra langue e parole, cioè tra lingua come deposito culturale come patrimonio linguistico ereditato e proferimento della parola come uso del linguaggio attivo. Mi spiego meglio. La nostra relazione con la tradizione è una relazione fondamentale, nasciamo dentro una tradizione culturale. Il mondo della cultura non è da noi creato, è da noi ricevuto. Nessuno di noi ha potuto scegliere in che anno, in che nazione, in che città, in che provincia nascere, in che famiglia, con quale, appunto, orizzonte simbolico avere a che fare. Senza però una tradizione culturale, diciamo quindi quest'ipoteca di non aver scelto, non è un male, nel senso che senza essere allevati, svezzati dentro una tradizione culturale che dia una qualche forma simbolica al mondo, una forma che può differire naturalmente e differisce di cultura in cultura, il singolo non sarebbe in grado di svilupparsi come tale, di avere un'identità. Questo è il polo che corrisponderebbe alla langue, alla lingua, alla lingua come deposito linguistico. Se ci pensate, la stessa cosa che dicevo ora per la tradizione vale per il linguaggio. Nessuno di noi ha scelto la propria madrelingua. Senza la nostra madrelingua noi non esisteremmo come persone, non potremmo parlare, non struttureremo il nostro pensiero e il modo in cui strutturiamo il nostro pensiero è vincolato dalla nostra madrelingua. Possiamo apprenderne un'altra, ma non potremo mai smettere di essere madrelingua, nel mio caso italiana, in ciascun caso quale che sia il caso. Senza questa madrelingua non avremmo costituito la nostra identità, non avremmo il mondo concettuale che abbiamo e non è stato tuttavia oggetto della nostra scelta e non potremo mai modificare questa condizione. Appunto, per quante lingue possiamo imparare non modificheremo mai la nostra madrelingua. tuttavia, proprio come nel caso della lingua, attuare la tradizione, cioè vivere, compiere atti linguistici, ovvero, fuori di metafora, atti culturali, è qualcosa che ci dà la possibilità di agire la tradizione, in qualche senso quindi anche di accrescerla, rigettarla, criticarla e rinnovarla. Nel caso della lingua questo è molto evidente. Noi tutti appunto abbiamo bevuto il latte di una madrelingua, ma tutti noi se pensiamo alla lingua che si parla oggi rispetto a quella che si parlava nell'anno in cui siamo nati, riscontreremo delle differenze, delle parole diventate obsolete, delle parole di nuova introduzione, delle parole che hanno mutato addirittura significato o modo d'uso. Nei soli anni che ci separano dalla nostra nascita, che rispetto alla storia sono nulla. Perché? Perché gli atti linguistici dei parlanti modificano il linguaggio, modificano quello stesso patrimonio che verrà poi trasmesso alla generazione successiva. Lo stesso avviene con la traduzione. Le forme simboliche di una cultura vengono modificate agendo la cultura, lottando per la trasformazione delle forme simboliche. La grande lotta culturale è una lotta simbolica, ovvero una lotta per l'attribuzione di carica simbolica ad alcune istituzioni. Pensate soltanto a una istituzione e a come è cambiata dall'anno in cui siete nati a oggi, in qualunque anno siate nati questa frase che sto per dire vera, l'istituzione della famiglia. È un chiarissimo caso in cui vediamo che la lotta simbolica per il riconoscimento di nuove forme dentro la nostra società ha mutato radicalmente i contorni di quel panorama culturale che costituiva la nostra tradizione. Ora veniamo a come queste riflessioni ci portano al tema della relazione con l'altro, che è il nostro tema fondamentale. Infatti, proprio tutte queste capacità di decentramento, di attività riflessiva, di autocoscienza, di espressione linguistica e anche quindi di non poter trascendere il mondo della cultura, sono ciò che rende da un lato inevitabile, dall'altro necessario e fondamentale rapportarsi con altri. Se non potessimo autotrascenderci non avremmo la capacità fondamentale di metterci al posto dell'altro, di avere una teoria della mente, direbbe la psicologia, cioè di sapere che l'altro pensa, che l'altro non coincide con noi, che il punto di vista altrui è un'altra prospettiva sulla realtà, è un'altra finestra sulla realtà insostituibile ma che possiamo provare immaginativamente a occupare. La stessa esperienza del sé nell'umano è un'esperienza mediata dall'altro. La prima parola dell'essere umano non è io ma è tu, è mamma. Nessun bambino dice io come prima parola o dice il suo nome come prima parola, ogni bambino dice mamma, papà o il nome del suo caregiver, chiunque sia. Pertanto per gli esseri umani le relazioni interpersonali non sono mai relazioni tra soggetto e oggetto, sono sempre relazioni tra soggetto e soggetto, cioè tra un io che dice tu a un altro io riconoscendolo come fonte di apertura intenzionale pari a sé e quindi attribuendo all'altro un riconoscimento di pari status, di pari dignità, di pari legittimità. Tra l'altro essere umano non è soltanto riconoscibile e da riconoscersi da parte mia come pari, come un io e non semplicemente un tu, ma è anche la figura, il luogo del mondo in questo grande mondo costituito dalla mediazione culturale, è l'unico luogo dove quella tensione diciamo esistenziale, quella sorta di sproporzione che l'essere umano avverte tra il sé e tra le aspettative del sé e la risposta del mondo trova invece parte del suo acquietamento, cioè l'altro è l'oggetto più adeguato del desiderio. Nulla noi desideriamo veramente quanto desideriamo l'altro o altri. La relazione è certamente il luogo più appagante del desiderio che l'essere umano possa incontrare nel mondo, quasi tale da dargli la sensazione, l'impressione o l'illusione di costituire il compimento totale del desiderio, salvo poi ricadere nella consapevolezza che nemmeno l'altro o l'altra più eccezionali possano davvero colmare in maniera stabile quella sproporzione strutturale. Ora il riconoscimento non è soltanto un atto di cortesia ma è fondamentale per la formazione dell'identità personale. È molto importante soffermarsi sul riconoscimento perché nella sezione in cui affronteremo la dinamica, le possibilità diciamo di soluzione politica alla dinamica dell'incontro multiculturale questa parola tornerà. Dicevo l'identità personale si forma certo a partire dall'interiorità ma viene inevitabilmente radicalmente influenzata in positivo e negativo quindi in termini di indebolimento o di rafforzamento dal rapporto con gli altri e in particolare dal riconoscimento che gli altri possono tributarci o meno. La mancanza di riconoscimento o misconoscimento non è quindi appunto la mancanza di un gesto di cortesia o semplicemente una mancanza di rispetto ma è qualcosa di fortemente lesivo dell'identità di una persona o di un gruppo. Il bisogno di venire riconosciuti come degli io di pari dignità, di pari legittimità è un bisogno così fondamentale che chi ne manchi a coloro ai quali venga negato subiscono un danno permanente identitario che si tratti di singoli o che si tratti di gruppi. Innanzitutto possiamo pensare al caso legato alla formazione dell'identità individuale dove il riconoscimento è fondamentalmente creato da un buon attaccamento e questo lo vedrete o lo avrete già visto se avete affrontato tematiche di psicologia dello sviluppo. Senza il riconoscimento adeguato che viene da un buon attaccamento, da un attaccamento sicuro, il bambino sviluppa un'immagine deteriore di sé, un'immagine diminuita, di scarsa dignità, un'immagine liberarsi dalla quale è un compito molto faticoso e non sempre di successo. A livello invece collettivo, quindi al livello che più ci interessa in questa lezione, il bisogno di riconoscimento e la mancanza di riconoscimento portano non solo i singoli ma i gruppi ad adottare un'immagine distorta, dispregiativa di sé stessi. Charles Taylor, un autore che rivedremo appunto nella sezione specificamente dedicata al multiculturalismo, esprime quest'idea in maniera estremamente efficace. Come sostengono alcune femministe, le donne nelle società patriarcali sono state indotte ad adottare un'immagine dispregiativa di sé stesse. Hanno interiorizzato un'immagine della loro stessa inferiorità, al punto che anche quando alcuni degli ostacoli oggettivi alla loro emancipazione sono stati eliminati, si sono rivelate incapaci di approfittare delle nuove opportunità. Qualcosa di analogo è stato sostenuto in relazione ai neri, cui la società bianca ha imposto per generazioni un'immagine degradante di loro stessi, immagine che alcuni di loro non hanno potuto fare a meno di adottare. Il loro disprezzo di sé, in questo modo, diventa uno degli strumenti più potenti della loro oppressione. La vera oppressione quindi si realizza come? Non disprezzando, ma facendo sì che l'altro si disprezzi da solo. E il disprezzo di sé ha una fonte importantissima nella mancanza di riconoscimento, tant'è vero che appunto, come ben dice Taylor, anche quando alcuni degli ostacoli oggettivi sono stati eliminati, il fatto di non aver ricevuto riconoscimento rende la percezione di sé così dispregiativa che ci si ritiene ancora indegni di sfruttare le nuove opportunità. Questo è un caso che si può vedere chiaramente, pensando a molti gruppi, non solo i due gruppi menzionati da Taylor. Pensate a come le minoranze fatichino a emanciparsi anche quando, da un punto di vista istituzionale, non vi siano obiezioni e vi siano addirittura in qualche modo agevolazioni a emanciparsi. Pensate a quanto il tasso, per esempio, di laureati all'interno di certe minoranze sia, non sorprendentemente, ma scioccantemente basso, nonostante, per esempio, il nostro paese preveda il diritto allo studio e quindi l'erogazione di borse di studio per i meno abbienti e quindi anche membri di minoranze poco abbienti potrebbero beneficiarne. Oppure chiediamoci perché queste minoranze sono poco abbienti, perché a fare lavori umili sono sempre determinati gruppi. Se ci si fa una passeggiata in un qualunque McDonald's negli Stati Uniti non si fatica a fare questo tipo di riflessione. Noi, come sintetizza Taylor, definiamo sempre la nostra identità dialogando e qualche volta lottando contro le cose che gli altri per noi significativi vogliono vedere in noi. Quindi l'identità del singolo che sia collettiva è determinata sempre dall'incontro e dallo scontro con ciò che l'altro significativo vede nel sé. E l'altro significativo può essere appunto la persona, il qualcuno con cui abbiamo una relazione significativa di accudimento o di amore oppure può essere un altro significativo anche l'istituzione che deve tributarci riconoscimento. Ora passando alla seconda sezione domandiamoci adesso se abbiamo visto alcune coordinate della relazione tra l'io, abbiamo prima cercato di comprendere qualcosa su questo io e poi in forza di ciò abbiamo visto alcune coordinate delle relazioni tra questo io e l'altro, veniamo a fare un passaggio di livello, cioè il passaggio della relazione tra culture. Domandiamoci innanzitutto, sarò abbastanza veloce su questa sezione per giungere poi a quella che è più fondamentale per il modulo, ma proviamo a domandarci se il rapporto tra culture deve essere declinato all'insegna del relativismo oppure della ricerca della verità. Bene, questa premessa ve la lascio leggere per non perdere tempo, sono precisazioni di carattere piuttosto generali. Mi baso per questa sezione su una bellissima opera di Diego Marconi, uno dei più grandi filosofi italiani viventi, che si intitola proprio Per la verità, relativismo e filosofia, e rappresenta una difesa della verità in maniera non dogmatica. Un altro testo che vi potrei menzionare è appena uscito, ecco perché non ho avuto tempo a usarlo come base per le slide, ed è un'opera del filosofo americano Robert Audi che si intitola Valore morale e multiculturalità. Sono entrambi i tentativi di difendere la possibilità di una qualche verità anche in campo culturale da un relativismo spinto pur non cadendo in un dogmatismo assolutistico. Marconi inizia distinguendo tra due tipi di pluralismo, il pluralismo come fatto e il pluralismo come atteggiamento. Il pluralismo come fatto è il dato di fatto appunto del pluralismo stesso, cioè della coesistenza tra membri di tradizioni culturali, religiose e d'altro tipo di stampo completamente diverso che danno luogo a scelte valoriali completamente diverse o parzialmente diverse. Mentre il pluralismo come atteggiamento è l'affermazione secondo cui l'esistenza di opzioni valoriali diverse, di opzioni etiche e politiche diverse non è solo un fatto ma è un bene da salvaguardare e anche da promuovere. Ora Marconi porta alcuni esempi di questa esaltazione in un certo senso della pluralità, ma si chiede perché mai dovremmo ritenere davvero la pluralità un valore. Perché dovremmo credere di trarre vantaggio da chi ha opzioni valoriali diverse dalle nostre? In qualche caso la risposta ci può sembrare ovvia, ma se pensiamo a opzioni valoriali che riteniamo radicalmente incompatibili con la nostra strutturazione valoriale, beh allora ci rendiamo conto che molto ovvia non è. Ecco perché Marconi prova a dare alcune risposte per salvare, in un certo senso, il pluralismo dallo scivolamento in forme di relativismo onichilista e quindi invece difendere la pluralità come valore su un terreno ragionevole. Una possibilità che Marconi scarta è quello di ritenere che la pluralità sia un bene perché aumenta le possibilità di scelta e quindi la libertà. Tuttavia appunto Marconi ci mette in guardia e ci dice ma se esiste un'oggettività morale per esempio o culturale, allora aumentare le possibilità di scelta non è un bene, è semplicemente qualcosa che aumenta le nostre chance di errore, di insuccesso. Un'idea più promettente per difendere la presenza di più alternative valoriali è che il confronto tra queste alternative tenda a far prevalere l'alternativa migliore. Quest'idea che tutto sommato credo sia stata introdotta nel dibattito filosofico da John Stuart Mill nel suo saggio sull'utilitarismo e sulla libertà di parola in particolare contenuto nella sua opera principale è un'idea piuttosto ottimistica secondo la quale appunto il libero scambio faccia prevalere in maniera pressoché automatica più è promosso l'alternativa migliore, l'opzione migliore, quella più forte, cioè l'opzione più forte, più ragionevole e più documentata diventa prevalente se la si lascia esprimere. Naturalmente potremmo avere qualche perplessità perché noi ben sappiamo e in quest'epoca di post verità, di fake news e di agenzie pagate per farci credere il falso, naturalmente possiamo facilmente capire come sia decisamente ottimistico credere che ciò che fa prevalere un'idea sia il suo essere più forte o migliore. Tuttavia Marconi non crede allora che dobbiamo disperare nella difesa della pluralità, piuttosto crede che l'unico modo per difendere la pluralità senza scivolare in quello che chiama pluralismo dell'equivalenza e che ora vedremo di descrivere, sia la possibilità di un dialogo tollerante, cioè un dialogo realmente improntato al dare e ricevere ragioni. L'idea cioè che non abbiamo la verità in tasca ma che continuiamo pur sempre a credere nella possibilità di incontrare un'oggettività, di scoprire un'oggettività valoriale. Questa scoperta noi però possiamo continuare a credere di aver bisogno di farla attraverso il confronto ma questo confronto non è semplicemente il supermarket delle opzioni come nella prima risposta e neppure la fiducia che la fiducia come dire incondizionata che l'alternativa migliore si farà vedere da sé. Bensì risiede nella possibilità e nell'onestà di instaurare un confronto franco, il che significa nella disponibilità a un dialogo vero, un dialogo fatto di dare e ricevere ragioni. Non un dialogo quindi che è una somma di monologhi in competizione, di opinioni urlate e ribadite, ma la onesta apertura al contributo dell'altro, alla prospettiva dell'altro, con la fiducia di partenza che in quella prospettiva si possa incontrare qualcosa di valido per sé. L'alternativa per Marconi a questa possibilità è soltanto lo scivolamento appunto nel pluralismo dell'equivalenza, ovvero nella convinzione che tutte le varie strade intraprese dalle comunità umane si equivalgano e non possano essere confrontate né poste in alcun tipo di gerarchia. Ma secondo Marconi questa convinzione è profondamente sbagliata. Io so che probabilmente in questo corso sentirete varie posizioni su questo tema. La discordanza tra queste posizioni o il dissenso tra queste posizioni non dovrete prenderle come un male, dovrete prenderle come un esercizio del pensiero. È naturale, non trattandosi di una scienza, che l'ambito antropologico abbia delle divergenze profonde. Ma Marconi dice che non è vero che le società sono equivalenti. Per esempio, possiamo pensare, come propone il grande antropologo Jared Diamond, di valutarle non con criteri estrinseci, che sarebbero ovviamente ingiusti, ma usando il criterio intrinseco di vedere in che modo le loro scelte condizionino la loro stessa sopravvivenza. Ma perché, secondo Marconi, abbiamo così tanta paura di giudicare? Innanzitutto per la paura delle conseguenze, per esempio la conseguenza del diventare razzisti o sprezzanti o altro. Ma è importante sottolineare come l'affermazione dell'uguale dignità della persona non sia intaccata dalla possibilità di giudicarne i valori o le scelte. E inoltre, come nota Marconi, se per paura delle conseguenze rifiutiamo aprioristicamente la discussione, beh, questo è un prezzo razionale troppo alto e anche epistemico. Paghiamo uno scotto epistemico altissimo. Un altro motivo per cui ci possiamo voler astenere da giudicare è che in fondo in fondo pensiamo che la scelta tra alternative in campo etico religioso o culturale in senso ampio sia di fatto questione di gusti, cioè trascenda l'ambito dell'oggettività e sia piuttosto questione di cause, cioè di antecedenti dai quali non possiamo liberarci e non di ragioni, cioè che in fondo per le nostre opzioni non abbiamo davvero ragioni, ragioni che possiamo dare, scambiare sul mercato del dialogo, ma cause. Siamo spinti a credere alcune cose da cause che ci precedono e che si sottraggono al nostro controllo e non ne abbiamo davvero ragioni. Esattamente come potrei preferire il pistacchio alla fragola, potrei preferire un determinato assetto valoriale a un altro e come non posso dare ragioni che non siano puramente soggettive per il pistacchio, analogamente non potrei darne quantomeno non di forti per le mie scelte valoriali. Da questo non può che scaturire il relativismo, il relativismo che si estenderebbe anche alla stessa democrazia, che sarebbe secondo i suoi sostenitori un valore fondamentale, democratico, perché delegittimerebbe tutte le posizioni dalla pretesa di egemonia. In realtà secondo Marconi non è affatto vero che la democrazia debba essere relativistica, anzi la democrazia deve e di fatto lo fa prendere posizione rispetto ad alcuni valori fondamentali, per esempio l'uguale dignità degli esseri umani ed alcuni diritti fondamentali. La democrazia rispetto ad alcuni valori e diritti è intransigente, non relativistica. Pensate alla nostra Costituzione e ai beni che protegge, non pensate adesso a quanto efficacemente sia attuata, ma pensate a quanto sia intrinsecamente protettiva nei confronti di alcuni valori, come l'uguaglianza, il diritto all'espressione di sé, diritti di libertà, ma anche doveri di solidarietà. La nostra Costituzione è particolarmente attenta a proteggere, promuovere l'uguaglianza sostanziale, non l'uguaglianza puramente formale. Pensate a come l'articolo 3 della Costituzione pretende che l'uguaglianza non sia un valore astratto, non sia lettera morta, ma sia promossa attivamente dalla Repubblica e dalle sue istituzioni, fondando così istituzioni tutt'altro che ovvie, come l'assistenza sanitaria pubblica, il diritto allo studio. Mai come in questi giorni ci rendiamo conto di quanto queste istituzioni, per quanto carentemente implementate siano sono tuttavia un'arma fondamentale per l'uguaglianza. Il relativismo per Marconi non può che scivolare nel nichilismo, perché se tutto ha uguale valore, in ultima analisi nulla ha davvero valore. Il che significa che nemmeno i miei valori sono veri valori, nemmeno per me valgono davvero. se davvero penso fino in fondo che valgano come quelli di tutti gli altri, allora non valgono davvero, valore è ciò che vale e se vale non può valere quanto tutto il resto. Un esempio paradossale che fa Marconi è che ammettere l'uguaglianza dei valori sarebbe come togliersi la possibilità, per assurdo, di ammettere l'erroneità dei valori propugnati dal Ku Klux Klan. Ammettere che ci sia una superiorità di chi invece sostiene l'uguaglianza di tutti gli esseri umani rispetto a posizioni estreme come queste. Se non ci sono fatti morali su cui basare una gerarchia tra valori, in ultima analisi, ma solo preferenze culturalmente determinate, la moralità è distrutta e i valori non sono più valori affatto, non è più possibile difendere che un valore sia tale. Il modo per uscire da questa impassa appunto è un dialogo onesto, un dialogo che davvero consista nel dare e ricevere ragioni e anche il prestare attenzione a come, al di là delle differenze, il valore morale sia più condiviso e più diffuso di quanto possa sembrare in prima battuta e che a volte quelli che sembrano conflitti di valori sono in realtà conflitti tra comportamenti e valori, per esempio ci sono comportamenti dei membri di una comunità che confliggono con gli stessi valori di quella stessa comunità, oppure si celino dietro a questi conflitti di valore in realtà comportamenti che sono diverse attuazioni degli stessi valori. L'esempio degli eschimesi che espongono gli anziani alla morte, alla morte per congelamento peraltro, che è un atteggiamento che ci sembra esecrabile, è il modo culturalmente sedimentato presso quella cultura di perseguire un bene che noi anche riconosciamo che è la sopravvivenza della comunità. Possiamo quindi condannare il comportamento senza condannare il valore che è alle spalle di quel comportamento. In conclusione quindi l'obiettivo di Marconi non è difendere la possibilità di giudicare estrinsecamente le culture, ma dall'interno della comune umanità discutere in vista di una revisione innanzitutto delle proprie gerarchie tra valori, portando così la collettività a un'evoluzione proprio come una cultura al suo interno si evolve. Come dicevamo, vivendo la cultura, agendo la cultura, cambiano le forme simboliche e cambiano attraverso uno scambio di ragioni, a volte uno scambio energico, ma uno scambio onesto di ragioni, allo stesso modo non solo in maniera intraculturale ma interculturale si può e si deve promuovere uno scambio che tenda alla costruzione di un'umanità comune, che tenda alla promozione di valori condivisi e a volte alla revisione di comportamenti che con quegli stessi valori sono incompatibili. Passiamo adesso alla terza sezione, cioè quella che riguarda propriamente il piano politico istituzionale. Abbiamo visto chi è il soggetto di questo dialogo, abbiamo visto un po' di dibattito filosofico su come questo dialogo vada inteso, se appunto in maniera relativistica o con la fiducia nella possibilità di guadagnare una qualche oggettività, adesso vediamo come tutto questo si può tradurre nel piano politico istituzionale. Infatti quando la domanda rimane sul piano cognitivo, come nel caso della sezione precedente, allora certamente ci si può concedere il lusso di parlare di fluidità, ibridazione, mutamento, ma quando la domanda è pratica, cioè riguarda il che cosa fare in questa particolare situazione spinosa, allora la domanda diventa più stringente e una risposta che invochi o evochi una strata ibridazione si fa insufficiente. Definiamo alcuni concetti per vedere poi come si possano utilizzare. Qui mi riferisco a questo bellissimo articolo di Massimo Cacciari, nome di luogo, confine, che appunto definisce alcuni termini dello scontro. La parola confine, anche etimologicamente, si può intendere in maniera duplice, cioè come l'imes, ovvero la soglia, la porta, il territorio che mette in comunicazione due realtà, oppure come l'imes, il camminamento che circonda quel territorio, che quindi lo divide da ciò che è al di fuori. Il confine è quindi un concetto ibrido, davvero, è un concetto che distingue accomunando, è sia ciò che ci mette in relazione con ciò che ci è vicino, sia invece quello che ce ne separa. Questo ha un significato anche filosofico, cioè suggerisce l'idea che non si possieda un'identità senza riferirsi ad altri. Quando un bambino studia l'Italia, a geografia, alle elementari, la prima cosa che dice è l'Italia è un paese che confina con deve nominare altri. Quando la preoccupazione politica di marcare il limes diventa ossessiva, quindi di marcare il confine come muraglia anziché come soglia, allora l'assetto anche politico della società diventa quello di difendersi dal contagio dell'altro, il che appunto conduce a politiche sostanzialmente antirelazionali. Questo è il tentativo di difendersi dal pericolo dell'appiccicosa, contagiosa, contaminata alterità. Ma questo è un sogno narcisistico che in qualche modo porta a desiderare un'identità identica. Tutto il contrario di quello che dicevamo all'inizio, cioè che l'identità è sempre fecondata in maniera ibrida, nasce da una fecondazione a volte anche involontaria o non desiderata, ma che produce frutti, che in qualche modo rompe l'isolamento genetico di una cultura fecondandola con un DNA diverso che le è benefico. Questo sogno narcisistico elimina, cioè letteralmente stromette dall'imes l'altro, o non lasciandolo passare, oppure espellendolo una volta che sia dentro. Ma questo fa notare Paolo Gomarasca in un articolo molto interessante che trovate in bibliografia. Non è esclusivamente tipico di una società o di una concezione comunitarista o comunque nazionalista, dove l'altro viene escluso, collocato al di fuori del gruppo del noi. Può anche essere invece una possibilità presente in una società liberale, dove chi entra, certo tutti possono entrare, ma chi entra è soltanto chi accetta di rinunciare alla propria differenza, chi accetta la depurazione. Ma quando finiscono i nemici da eliminare, quando l'estraneo è stato espulso o fatto fuori, che succede all'identità? Beh, chi non si vuole contaminare rimane imprigionato, si condanna alla sterilità, alla mancanza di fecondazione. come vediamo, perché nella nostra epoca questo tipo di tentazione non manca, si condanna a un isolamento che dorato non è. Ma in che modo si può riaprire questo confine? Beh, c'è un rischio opposto, cioè l'apertura assoluta del confine senza soglie, che teorizza e esalta uno spazio aperto senza confini, una sorta di nomadismo perenne, di ibridazione assoluta, in cui qualunque confine è visto con sospetto come un ancoraggio che è segno di debolezza, che non è necessario all'identità umana, anzi, o all'identità di un popolo, anzi è un concetto da superare, in nome di una transizione permanente di un'identità perennemente fluttuante. La stabilità sarebbe il segno di debolezza di chi non vuole cambiare. Ma questo sogno di un nomadismo perenne, in realtà, come fa notare Slavoj Cizek, è un sogno postmoderno, è un sogno che si traduce in un incubo, perché che legame, che tipo di legame è mai possibile tra individui che non hanno identità, individui cosiddetti liminali. Come dicevamo all'inizio, o verso l'inizio, la nostra tradizione, la nostra madrelingua è ciò che ci dà le parole, ciò che ci dà i concetti, ciò che dice chi siamo. Possiamo negoziarla, anzi dobbiamo negoziarla, è nostro compito esistenziale negoziarla. Non possiamo non averla, non possiamo rigettarla in toto, non possiamo cancellarci la madrelingua appena il non poter più parlare, non avere un linguaggio. Inoltre, appunto, questo sogno non è soltanto un sogno che diventa un incubo, è un sogno anche per ricchi, perché di fronte alla tragedia delle migrazioni di massa, noi ci rendiamo conto che l'ibridazione è un ideale che ci possiamo permettere noi occidentali benestanti, ma che per una grande fetta della popolazione mondiale è davvero un incubo, è davvero l'incubo dell'essere costretti alla perdita dell'identità. E la natura ibrida non è una scelta alla page, ma un'esperienza traumatica, concreta, di chi non può mai essere davvero a casa, non può mai essere davvero membro di un'identità. Una possibile proposta politica che riconosca tanto l'esigenza di radicamento quanto quella di apertura viene appunto dall'autore che vi nominavo prima, Charles Taylor, il quale propone una politica che chiama del riconoscimento, cioè una politica che fa del riconoscimento della differenza al suo fulcro, ma al tempo stesso prova a integrare diritti universali e quindi esigenze di radicamento in alcuni grandi valori e risposte a esigenze diverse, differenti, di gruppi particolari. La politica del riconoscimento è appunto una politica della differenza che propone di superare un universalismo assoluto che imponga un modello di individualità maggioritario, così facendo, misconoscendo in modo istituzionalizzato altri modelli di persona, di razionalità e quindi attuando una mancanza di riconoscimento a livello istituzionale, legalizzando la mancanza di riconoscimento. Quindi superare questo modello ampliando invece gli interventi normativi ad hoc, per esempio intervenendo politicamente per concedere privilegi a gruppi e minoranze culturali perché possano realizzare e promuovere la loro specifica identità culturale. In particolare un fenomeno in cui possiamo pensare di vedere questo modello applicabile è quello della convivenza tra diverse fedi religiose. Sappiamo benissimo infatti che dopo una modernità illuministica e post-illuministica dominata e una post-modernità ancor più in questo segno dominata dal tentativo di relegare le credenze religiose, le credenze metafisiche totalmente nella sfera del privato, oggi si assiste, questo oggi va avanti da almeno un ventennio, certamente l'11 settembre lo ha reso particolarmente evidente, a un fenomeno di deprivatizzazione della religione, cioè alla fuoriuscita delle religioni dal privato, a loro irrompere in maniera discorsiva o anche aggressiva nella sfera pubblica. E questo ci pone un problema di come poter pensare alla convivenza. Se abbiamo in mente la domanda sul riconoscimento, quindi sull'attuazione di una promozione delle differenze, delle varie identità, capiamo che rispetto a questo tema diventa particolarmente urgente. Qui vediamo una buona descrizione di che cosa sia la deprivatizzazione della religione, una descrizione che ci viene offerta da questo bel volume di Antonella Vesussi. Credenze metafisiche accantonate, pensate per lo più come accantonabili, tornano a prendere consistenza e visibilità pubblica, politicizzano le loro divergenti conclusioni, non si fanno più contenere nello spazio privato della coscienza o contestano la possibilità stessa di privatizzare la coscienza. Compiono insomma all'inverso il percorso prescritto dalla ricetta secolarista, rendendo politicamente visibili le dispute che li dividono. Come dovremmo affrontare questo fenomeno? All'origine di questo dibattito c'è il grandissimo filosofo politico americano John Rawls. Per Rawls, soprattutto in quest'opera Il diritto dei popoli, il modo di approcciare la questione è applicando alle varie tradizioni culturali e religiose una clausola condizionale, secondo la quale ogni argomento, ogni argomentazione proveniente da quella che chiama dottrina comprensiva ragionevole, cioè tradizione culturale o religiosa che voglia rendersi intelligibile, è accoglibile pubblicamente se e solo se venga espresso in un linguaggio che aderisce a principi di pubblicità e accettabilità universale della ragione pubblica, ovvero tradotto solo se espresso in un linguaggio che non attinga risorse dalla dottrina comprensiva stessa, cioè per esempio che se io dico dovremmo vietare l'aborto, la mia argomentazione non sia perché la vita è un dono di Dio, perché questo argomento non è accettabile dalla ragione pubblica, perché non è universalmente riconoscibile come un argomento. La clausola condizionale quindi prescrive di tradurre questo argomento in termini pubblicamente quantomeno accoglibili, anche se naturalmente la lealtà dei singoli cittadini che appartengono alle varie tradizioni è radicata nella loro tradizione. In questa opera, di cui vedete la copertina in realtà dell'edizione spagnola, l'altro grandissimo filosofo politico Jürgen Habermas risponde che la clausola condizionale è una clausola decisamente troppo forte da imporre ai cittadini e che per quanto riguarda quella che Habermas chiama sfera pubblica debole, cioè il processo deliberativo pubblico di formazione delle argomentazioni della sfera pre-politica, tutti i cittadini debbano poter far valere gli argomenti tratti dal mondo della vita a cui appartengono. Quindi che quando stiamo parlando di dibattito pubblico e non di sfera istituzionale in senso stretto, sia non solo legittimo ma sacrosanto far valere i propri argomenti. Rieccomi, scusatemi. Invece per quanto riguarda la sfera pubblica forte, cioè il contesto strettamente istituzionale, allora in quel caso è corretto che valga la clausola condizionale di Rawls. Ora, una replica proviene dal mondo del comunitarismo, cioè il mondo cui in parte appartiene anche Charles Taylor, il promotore della politica del riconoscimento. Questa replica è quella di Michael Sandel, un altro filosofo politico americano, che sostiene come occorra allargare la ragione pubblica. Quella ragione pubblica che per Rawls va preservata dalla clausola condizionale, va invece allargata, tenendo conto del fatto che, come faceva notare Taylor, l'identità è forgiata da un'appartenenza costitutiva a una determinata comunità che è fonte di valori e di autocomprensione e che perciò il gesto di mettere tra parentesi le credenze morali e religiose quando si prendono decisioni politiche e legali è innanzitutto impraticabile, perché in moltissimi casi la neutralità è assolutamente realizzabile, bisogna prendere posizioni. E in secondo luogo, e più gravemente, erode la vitalità di una società, perché restringe la gamma di argomenti cui attingere per deliberare e per risolvere difficili questioni inerenti la moralità. Se mi privo dell'apporto che qualcuno può darmi e che proviene dalla sua tradizione comprensiva, dalla sua orizzonte religioso o culturale, mi privo della possibilità di ascoltare un argomento che potrebbe stupirmi, che potrebbe arricchirmi, che potrei non aver considerato, che potrebbe perfino convincermi. Il dialogo nell'era dei social network ci ha forse reso un po' scettici sulla possibilità di cambiare idea. Tuttavia, la convinzione di questi filosofi è che un vero dialogo sia quello che si serve, si arricchisce dell'apporto, che proviene anche da idee che io non posso del tutto condividere, non posso neppure del tutto comprendere. Forse ci siamo un po' disabituati appunto all'idea di, se mai siamo stati abituati, all'idea di accettare che qualcuno ci offre argomenti che dobbiamo poter considerare, che possiamo prendere in considerazione di ascoltare davvero, non semplicemente ribadendo quelli che avevamo in precedenza. Ci siamo un po' disabituati, se mai siamo stati abituati, in questo come dicevo anche i social network hanno fatto la loro bella parte, dandoci l'impressione che la contrapposizione e lo scontro siano l'unico modo di interagire con chi è diverso da noi o la pensa diversamente da noi. Come nota un'altra importante filosofa, Sheila Benavid, mettere tra parentesi le credenze, equivale a mettere il bavaglio, mettere il bavaglio alle identità. Per cui Benavid sostiene che noi dovremmo sbavagliare in un certo senso le identità al tempo stesso garantendo il rispetto di tre regole fondamentali. La prima è quella della reciprocità egualitaria, ovvero i membri di ogni minoranza devono avere garantiti gli stessi diritti della maggioranza, ma al tempo stesso le minoranze devono garantirci qualcosa in cambio, cioè devono garantirci, a noi come collettività si intende, l'autoascrizione volontaria, cioè nessuno deve essere automaticamente ascritto a un certo gruppo culturale o religioso che sia contro il suo volere, e la libertà piena di uscita e di associazione, cioè i singoli devono poter entrare e uscire dai gruppi senza forzature. Conclusione quindi, da un punto di vista politico, le proposte che abbiamo visto mostrano da un lato l'esigenza di rispetto per il radicamento degli individui entro le loro appartenenze particolari, ma insieme l'esigenza di rispetto dei diritti dei singoli, in quanto singoli. Potremmo dire che è ragionevole promuovere la libera concorrenza fra persone di diverse culture e religioni, cioè fra noi e gli altri, perché, come abbiamo avuto modo di notare, la possibilità di edificare questo concetto un po' desueto, il bene comune, risiede nella possibilità di un confronto aperto, franco, in cui gli argomenti possono venire tratti da una pluralità di fonti, in vista della possibilità del conseguimento di un qualche consenso, di una qualche oggettività pur provvisoria. Ma questo implica che siano garantite a livello istituzionale le condizioni di uno scambio pacifico, di uno scambio non violento, non aggressivo e non prevaricante, né da parte della maggioranza sulle minoranze né viceversa. Ora veniamo all'ultima sezione che piegherà l'ultima parte di questo nostro incontro telematico, cioè la parte che riguarda, come dicevo, lo sforzo che dovrebbe fare il singolo nell'incontro con l'altro. Spendo due parole in più su questo perché potrebbe suonare bizzarro parlare di virtù in questo contesto. Ho voluto inserire però questa sezione perché credo che, giunti a questo punto, sarebbe velleitario parlare di politiche se non parlassimo dei singoli. Innanzitutto perché siamo dei singoli e quello che riguarda noi stessi non possiamo, come dire, delegarlo né alle istituzioni, nemmeno alle correnti filosofiche. Secondariamente perché qualunque scelta politica si attui per attenuare la discriminazione, per integrare tradizioni culturali diverse, per promuovere il riconoscimento o per depotenziarlo, qualunque scelta politica non può bypassare l'azione del singolo perché di fatto a interagire sono singoli. Pertanto il singolo per aderire o rigettare alcune, quale che siano le proposte, gli assetti politici istituzionali entro cui si declina il multiculturalismo, deve sentire di poterli avallare, avallare razionalmente, avallare anche emotivamente oppure rigettare razionalmente ed emotivamente. Quindi in altre parole il singolo ha bisogno di venire motivato, ha questa capacità di riconoscimento, di non discriminazione, ha bisogno di sentirsi spinto da ragioni e anche da motivazioni. Ora appunto quindi non si può demandare al piano istituzionale l'incontro con l'altro. Oltre quindi a politiche efficaci sostengo che sia opportuno per non dire necessario coltivare virtù dell'incontro. Ne individuate alcune. Una prima virtù emerge come alternativa a una coppia di vizi contrapposti che ho chiamato fondamentalismo e dissoluzione identitaria. Se da un lato il vizio del fondamentalismo è quel vizio personale, personale a livello di assetto esistenziale ma anche di relazione alla propria cultura, che consiste nel voler mantenere lo status quo ad ogni costo anche quando il cambiamento sarebbe moralmente necessario, e questo vizio porta ad attitudini come l'arroganza, il dogmatismo, il fanatismo, il bigottismo, la rigidità. Pensate su quante tematiche noi stessi o le persone che conosciamo si mostrano arroganti, bigotti, incapaci di voler cambiare, o addirittura fanatici, o semplicemente rigidi. Il rischio opposto dall'altro è quello di una dissoluzione identitaria, cioè un rigetto di qualunque punto d'appoggio stabile nell'esistenza, cosa che porta all'autoinganno, all'ipocrisia, ma anche all'indifferenza. La mancanza di interesse per l'identità non è una virtù per l'incontro con l'altro, perché come abbiamo detto per incontrarsi bisogna essere degli io. Il deliberato quindi disinteressarsi della costruzione di un'identità, più che essere una virtù, è invece una minaccia nei confronti dell'incontro reale con l'altro, perché nello scambio di dare e ricevere ragioni noi non abbiamo nulla da dare. Quindi la prima medietà virtuosa, la prima via di mezzo virtuosa, il primo tratto che ritengo importante per mediare tra queste due attitudini viziose è quello che chiamo integrità, cioè la virtù di una giusta fedeltà a se stessi. Il che implica da un lato una fedeltà a sé, un primo rispetto per i propri valori, per i propri ideali, un rispetto che noi dobbiamo a questi valori, perché questi valori li abbiamo avallati razionalmente, sono preziosi per noi, non possiamo non tributare loro innanzitutto una certa fiducia e fedeltà. Ma dall'altro l'integrità implica anche la disponibilità, l'apertura alla revisione che l'incontro col diverso può mostrarci come necessaria. Cioè è forse il tratto più difficile da coltivare, ovvero la possibilità che l'integrità si disintegri. Cioè paradossalmente la vera integrità è una fedeltà a se stessi che contempla la possibilità della disintegrazione. Se l'altro mi offre buone ragioni o una buona testimonianza di qualcosa che razionalmente devo riconoscere come valido, la possibilità della disintegrazione è la possibilità della mia stessa integrità, perché è il modo di realizzare autenticamente la fedeltà a me stessa. Non sarei davvero fedele a me stessa se non mi lasciassi disintegrare da ciò che posso riconoscere come valido. Un'altra coppia viziosa molto pericolosa è stata individuata dalla filosofa inglese Miranda Fricker in una sua opera fondamentale sul tema dell'ingiustizia epistemica. C'è infatti un tipo di ingiustizia legata alle credenze e come dire alla credibilità che siamo disposti ad attribuire agli altri. Quella che i due vizi che Fricker riconosce, trovate il titolo dell'opera in bibliografia, sono quelli dell'ingiustizia testimoniale e dell'ingiustizia ermeneutica. L'ingiustizia testimoniale consiste nell'attribuire minore credibilità a qualcuno per un pregiudizio che si ha verso di lui. Ci sono anche test sperimentali che mostrano come la parola di uno straniero spesso venga presa meno sul serio di quella di un compatriota, di un connazionale. Perfino nel chiedere informazioni stradali sono stati fatti esperimenti che mostrano come tendiamo ad attribuire meno valore all'indicazione stradale dataci da uno straniero, specie se membro di una minoranza svantaggiata, rispetto all'informazione data da qualcuno che riconosciamo come connazionale o pari status rispetto al nostro. La seconda forma di ingiustizia è l'ingiustizia ermeneutica, che è un vizio collettivo, cioè è l'incapacità o la mancanza anche di intenzione di farlo, di interpretare adeguatamente le esperienze di un certo gruppo o di un certo singolo, per la mancanza di appunto volontà sociale di farlo. Ovvero quando la nostra società ha un pregiudizio collettivo su un determinato gruppo o individuo può manifestare un'incapacità a interpretarne la cultura nel suo complesso, a provare a capirne i valori, a capirne l'orizzonte simbolico, così facendo naturalmente si compromette la possibilità di capirne qualunque scelta, qualunque opzione valoriale, perché se c'è un'incapacità e una mancanza di volontà di interpretazione complessiva, di comprensione complessiva delle esperienze e dell'orizzonte valoriale di quel gruppo, naturalmente poi i singoli gesti, le singole scelte a loro volta saranno ininterpretabili per noi. La virtù correttiva che Fricker propone è quella della giustizia epistemica, che è una forma specifica di giustizia, non è la giustizia generale, la giustizia in astratto, è una giustizia rispetto proprio alla conoscenza dell'altro e alla credibilità che attribuiamo all'altro. Per questo la possiamo chiamare, e Fricker la chiama, epistemica. Un'altra coppia viziosa è quella tra cadere in stereotipi e cadere in idealizzazione. Per stereotipi si intende ovviamente le visioni appunto stereotipiche, stereotipate, cristallizzate, semplificate dell'altro, che causano emozioni specifiche, come avversione, disprezzo, indifferenza. Noi dell'altro non ci formiamo un'immagine reale, non incontriamo l'altro per come davvero è, ma crediamo di incontrarlo, mentre in realtà incappiamo sempre nella nostra immagine stereotipata dell'altro. Questa tendenza a incontrare i nostri stereotipi anziché incontrare l'altro ha almeno due conseguenze importanti. La prima è il mancato riconoscimento, perché ovviamente incontrare un'immagine dell'altro vuol dire non riconoscere l'altro, non chiamarlo col suo nome e di conseguenza prendere decisioni politiche che gli sono sfavorevoli quando arriva il momento di scegliere, quando arriva il momento di dire la nostra su questioni di interesse collettivo. Un esempio che mi ha molto colpito è un articolo che ho letto in cui veniva spiegato come in un'intervista si è emerso che l'americano bianco medio a cui viene chiesto chi è il destinatario tipo del welfare secondo te, rispondesse una donna pigra di colore, cioè le caratteristiche che emergevano dal sondaggio era che per l'americano bianco medio ad avere bisogno del welfare fossero donne di colore pigre che necessitavano o necessitano del welfare perché non hanno voglia di riscattarsi, di lavorare eccetera. Ecco qui vedete una mancanza di riconoscimento che deriva da un'immagine stereotipica, la pigrizia intrinseca delle donne di colore che dipendono parassitariamente dallo Stato, quindi una mancanza di riconoscimento che non solo causa un danno identitario a quella persona come abbiamo visto un bel po' di slide ma causa scelte politiche perché se io davvero penso che a beneficiare del welfare sia qualcuno di così indegno, di così disprezzabile, naturalmente se potrò prendere decisioni pro o contro o meglio per finalizzate al rafforzamento, all'indebolimento del welfare, beh non c'è bisogno di rispondere quale sarà la mia direzione. Dall'altra parte però, contrapposti agli stereotipi, potremmo avere delle altrettanto pericolose idealizzazioni. Di nuovo, idealizzare l'altro significa non incontrarlo, l'immagine del buono straniero, dello straniero sempre, come dire, meritevole di ammirazione in quanto tale, portatore di valori autentici, più autentici dei nostri. Anche qui, da un lato, questa idealizzazione ci porta a rinnegare, in un certo senso, quindi a smarrire la nostra identità personale. E poi, di nuovo, non è un modo di incontrare l'altro, ma un altro costruito a nostro piacere. Anche qui, quindi, c'è una mancanza di riconoscimento. Certamente meno svantaggiosa per l'altro della precedente, ma non meno pericolosa e non meno moralmente erronea perché appunto non rappresenta un vero tributare, il legittimo riconoscimento all'altro, ma alla nostra visione narcisistica dell'altro. Quindi, la virtù che, a mio avviso, possiamo proporre per non cadere né nello stereotipo né nell'idealizzazione è quella che ho chiamato immaginazione morale, cioè un tentativo di liberarsi progressivamente dagli stereotipi attraverso una forma di disciplina morale, sia razionale che affettiva. che significa immaginazione morale? Significa provare a mettersi nella vita degli altri, immaginativamente, nella forma del come, del come se, come vedo la sua situazione, come mi sentirei se fossi al suo posto, come potrà essere vivere in quel modo. Quindi un'operazione fondamentale che sembra semplice, sembra banale, ma di fatto facciamo raramente. Per uscire dalle immagini stereotipiche e idealizzanti, che sono un modo di non incontrare l'altro, è provare a immaginarsi come sia essere questi altri. Una filosofa britannica scomparsa un paio di decenni fa, Iris Mardock, che fu una grande romanziera, una grande filosofa, parla esplicitamente dell'immaginazione morale come virtù politica. Cioè immaginare le conseguenze delle politiche, raffigurarsi cosa significhi per le persone trovarsi in determinate situazioni, disoccupazione, persecuzione, povertà estrema, collegare idee morali assiomatiche, per esempio riguardanti i diritti, a considerazioni pragmatiche relative all'utilità. Cioè esercitare questa capacità di immedesimazione nell'altro all'interno di un quadro in cui ci sono decisioni politiche da prendere. Quindi non semplicemente provare a immaginare com'è stare nei panni degli altri, ma com'è trovarsi in situazioni e trovarsi oggetto di determinate scelte politiche. Cosa succederebbe a me? Come mi sentirei io se venisse adottata questa politica nei miei confronti. Quest'idea è stata ripresa da una famosissima filosofa americana vivente, Martha Nussbaum, che è molto prolifica e si è occupata molto di tematiche anche legate appunto non soltanto alla morale ma all'impatto pubblico e politico di alcune disposizioni morali. In quest'opera, dove molto bella, che esiste anche in traduzione italiana, che parla del disgusto, del pericolo di utilizzare il disgusto come parametro politico, Nussbaum riprende l'idea di immaginazione morale come virtù politica parlando di impegno immaginativo o imaginative engagement, cioè un antidoto alla politica del disgusto che andrebbe contrastata attraverso una politica dell'umanità. La politica del disgusto è quella tendenza a lasciare che il disgusto irriflesso e irriflessivo per alcune categorie o per alcuni tipi di comportamento, che è un portato davvero di un lascito culturale non discusso, non vagliato razionalmente. Ecco, questo disgusto può portare a scelte politiche importanti, discriminatorie nei confronti delle persone oggetto del nostro disgusto, Nussbaum fa l'esempio degli omosessuali e in questo è molto chiaro, e porta a una disumanizzazione dell'altro. Ecco perché la controproposta è una politica dell'umanità. Dice Nussbaum, com'è che diventiamo capaci di vedere un altro come un essere umano? Solo immaginando come si vede il mondo attraverso gli occhi di quella persona, si giunge al punto di vederla come un qualcuno e non un qualcosa. Ecco, qui trovate riferimenti bibliografici che vi ho citato e alcuni altri. In conclusione alla nostra lezione, quindi vorrei sottolineare come quello che abbiamo riconosciuto come centrale, appunto, usate il gioco di parole, è proprio l'idea di riconoscimento, cioè l'idea che tanto le politiche quanto gli atteggiamenti dei singoli debbano tener conto di questa dimensione fondamentale, fondamentale per l'identità nostra, di noi come singoli e per una buona interazione tra gruppi culturali. Cioè il trattarsi come degli io e non come degli oggetti, cioè il provare appunto immaginativamente a capire che esperienza fa l'altro contro appunto l'ingiustizia ermeneutica che ci impedisce di immedesimarci nell'interpretazione che altri danno della realtà e contro anche appunto la stereotipia di vederli come crediamo che siano anziché come sono. Quest'attitudine a tributare riconoscimento che possiamo allenare dovrebbe essere, a mio avviso, anche alla chiave di politiche che sappiano, come dicevamo con Taylor, contemperare il rispetto di diritti universali e il, appunto, il tributare legittimo spazio a gruppi. Pensate se ai gruppi che alle minoranze venisse impedito o venissero scoraggiati dal costruire comunità dove propagare la loro tradizione, dove tramandarla ai loro figli, luoghi di culto ma anche istituzioni scolastiche dove nel rispetto dei diritti fondamentali e delle leggi del paese in cui si trovano, che ovviamente devono essere garantiti, possano tuttavia portare avanti, tramandare la loro tradizione culturale o religiosa che sia. Taylor fa l'esempio delle comunità linguistiche, essendo un filosofo canadese pensa alle minoranze linguistiche, sapete che il Quebec prevede due gruppi linguistici, il gruppo anglofono e quello raccobono. Ora, se, dice Taylor, non si permettesse la promozione di, per esempio, scuole linguisticamente connotate, si creerebbe una situazione per la quale uno dei gruppi vedrebbe limitata la sua possibilità di trasmettere la sua lingua alla generazione successiva e noi sappiamo che cos'è una lingua. Una lingua è, appunto, il nostro latte materno, è la fonte della nostra organizzazione concettuale. Pensate a quanto questo valga anche per le religioni. Ora, quindi, questo equilibrio difficile tra il rispetto di alcune grandi norme su cui non possiamo essere davvero relativisti senza scadere in un nichilismo nei confronti dei nostri stessi valori e in una perdita dell'identità che di fatto ci condurrebbe a quel nomadismo senza volto che dovremmo evitare. Ecco, questo difficile equilibrio rappresenta la nostra possibilità di vivere il confine tanto come una soglia che in qualche modo ci distingue quanto come però un punto di incontro che ci accomuna. è un equilibrio difficile in cui certamente le istituzioni politiche devono fare la loro parte e a mio avviso la devono fare appunto tenendo conto dell'esigenza di lasciare che l'altro sia altro, di non appiattirlo o sterilizzarlo per farlo diventare uguale a noi, quanto però del pretendere in un certo senso che anche lui voglia essere rispettoso dei nostri, di quei valori sui quali la nostra democrazia per esempio si fonda e sui quali non è disposta a discutere, quantomeno nella loro formulazione più generale. Ma questo, come dicevo, è sia appunto una necessità politica, sia a mio avviso dovrebbe diventare una nostra necessità personale quando affrontiamo queste tematiche, in particolare quando si è docenti, come questo percorso che state intraprendendo vi porterà ad essere, così mi auguro almeno per voi, questi incontri sono all'ordine del giorno, sono la stoffa del quotidiano di un insegnante e quindi per questo, senza voler essere moralistica e spero di non esservelo sembrato, ho voluto inserire una riflessione su come appunto tutte queste considerazioni filosofiche, di antropologia filosofica, di filosofia politica, di epistemologia, come abbiamo visto con Marconi, circa la relazione tra sé e gli altri in termini di negoziazione, di dialogo, di scambio, di mercato delle idee, rimangano sterili se non entrano nel piano dell'io, dell'individuo, delle sue volontà o meno di coltivare certi tratti virtuosi che gli permettano davvero poi, alla fine dei conti, di incontrare l'altro, quali che siano le forme politiche dentro le quali ci si muove, gli orizzonti istituzionali e le scelte operate da quei contesti. Bene, spero che tutto questo, non spero che siate d'accordo, spero che vi susciti riflessioni o domande, nel qual caso ovviamente se voleste condividerle come vi ho già detto, trovate nelle slide il mio indirizzo email, in ogni caso per una autovalutazione di quanto ci siamo detti in questa ora e 45, vi rimando alle domande che troverete su aula web e che avete un'oretta al massimo per completare e così facendo prepararvi non solo all'esame ma anche appunto a un test della vostra acquisizione di alcuni rudimenti di antropologia filosofica e di dibattiti sul multiculturalismo. Grazie mille della vostra attenzione e arrivederci.